L'attività estrattiva che viene fatta qua necessita di un controllo di carattere ambientale che non può essere demandato a un'arpa piccolina che svolge attività rutinari. Quindi è evidente che c'è un tema più di carattere anche nazionale che può essere risolvibile solo agendo a livello legislativo nazionale. E quindi l'aiuto che a un certo momento chiede la Regione al Ministero rientra un po' in questo ragionamento. Ci dice, scusate, qui c'è l'attività estrattiva più importante d'Italia, sicuramente la più importante d'Europa, così come giustamente vengono percepiti i guadagni attraverso l'azionariato, è anche giusto che il Governo si preoccupi a dare una garanzia maggiore o che mette in campo direttamente degli strumenti a questo riguardo per tutelare l'ambiente. Quindi, però, è una giustificazione veramente minima perché se poi io vado a vedere altre situazioni, prendiamo un controllo banale come quello di un inceneritore della Fenice su cui ancora oggi l'agenzia non possiede, ce l'ha detto, hanno dovuto esternalizzare le andagini, non ha personale che fa i controlli alle emissioni dei camini. Sono situazioni che dipendono tutte dalla Regione.